ed eccoci qua buon natale buon natale è già nato credo però vabbè in generale insomma buone feste eccoci qua viva mancavamo dai ti mancavo Mario è nato no non mi mancavi no no devo dire che mi mancava un po' a fare le dirette perché stando fuori qualche giorno così fa strano non fare è vero è vero e quindi mi mancava un po' sono anche leggermente emozionato invitato anche leggermente in ritardo di un paio di minuti no non so qui ci frizza ma probabilmente dipende dalla connessione buonasera pupazzi ciao crash the grim ciao grande allora ovviamente tanto lo sapete che noi siamo dei cazzoni perché avevamo detto vabbè non facciamo le dirette durante le vacanze in tale ma un just chatting sicuramente lo faremo non è stato fatto però magari lo faremo la settimana prossima o magari no però eccoci qua con l'attesissimo special di natale perché questo è il terzo il quarto special di natale credo sia il quarto però potrebbe essere il terzo scusa no aspetta ne abbiamo fatto il tre anniversario quello è il tre anniversario appunto il tre anniversario lo fai una cosa lo special è un altro e no lo fai prima eh no perché noi siamo partiti aprile abbiamo fatto lo special di natale poi l'anniversario abbiamo fatto prima lo special di natale e poi abbiamo fatto l'anniversario abbiamo fatto il tre anniversario questo è il quarto special di natale bello bella la matematica soprattutto quando è un'opinione comunque io direi senza ulteriore inducci presentiamo il nostro ospite perché abbiamo l'onoreficenza l'onorevole abbiamo romano prodi con noi la felli dice chi è la felli introduco eccoci qua eccoci ciao 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 c'è anche un'imbucata che è la nostra mara di quartiere avete la felli per me parliamoci chiaro davvero è il consulente spirituale stai messa bene tutta roba mia ok quindi va bene natura dillo che è tutta natura grazie a mara abbiamo rimediato questa questa ospitata così e allora quelle crescono sotto gli alberi e quindi è natura le spalline imbottite anni 80 no sembravano sono no no ma noi siamo un po ignoranti allora tagliamo la corta presentati un attimo chi cazzo sei ciao sono felli adams 23 anni portati benissimo sembra mara di 21 infatti infatti lo dicono tutti 21 anni senza condizionale allora dove sono arrivata che ho perso il segno scorpione ascendete zoccola vediamo un po cosa faccio nella vita schifo a no 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 va beh qualche volta si è buono si effettivamente un po schifo da mattina dopo no sono drag queen nelle serate milanesi milano è famosa per la sua movida e per i suoi parassiti inguinali fantastico come mai state a milano milano si milano si per i parassiti inguinali ancora non abbiamo avuto il piacere no fantastico al virgo intatto come funziona allora ci abbiamo mette che salutiamo buonasera carissimi volevate il chitarrista più veloce del mondo ecco mi piacere allora facciamo tutti schifo io a milano manco sotto tortura ottimo ottimo mette favorevole a si è vero ma giusto e sottaceto che salutiamo dice particolarmente resistenti quelli milanesi suppongo si riferisca appunto ai parassiti inguinali no anche la diossine ah vedi vedi o ai milanesi no 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 abbiamo una composizione chimica particolare ormai sai polveri sottili tutte quelle passive siete praticamente come i supereroi però milanesi beh di fuso se ne vedono parecchi in città sì sì ok e i fuso io ho imparato da poco che so quella specie di leggings o tipo aspetta aspetta c'hanno 15 nomi diversi che magari c'hanno pure delle differenze anche i pantacollant che cosa sono i pantacollant i fuso è vero c'ho ragione ci ho preso sì credo di sì sono la stessa roba cioè sì fuso per noi degli anni per i noi boomer leggings per i giovani ah ok leggings con la vecchia ci sto dando anche io le chiamavo fuso ma come ti permetti scusa per me boomer sono fuso sì ovviamente felli è della generazione z e questo l'avevamo capito intuito se a me sta offende no 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 in realtà no stiamo rimarcando i due vent'anni stiamo rimarcando i due vent'anni non capisco queste cose vabbè lasciamo stare però la cosa che a me incuriosisce eh che noi non abbiamo frequentato molto perché a quanto ne so io la drag queen fondamentalmente eh cioè fa degli spettacoli ok o sbaglio o c'è qualcosa da saperne di più spiegaci un attimo bene il concept della drag queen tu sappi che sei la prima drag queen con cui io parlo personalmente non so Stefano ma è la prima volta che ho le parole con il corcetto l'antartide in mezzo ai pinguini fammi capire per incrociare ogni angolo di strada guarda posso assicurarti che io non le ho mai incrociate probabilmente Milano è un po più pienotta diciamo da questo punto di vista qui noi stiamo in provincia eh poi non so se può valere o meno qualcosa anche noi stiamo in provincia provinciali capisco adesso esatto provinciali provinciali e fieri eh provinciali non di Milano no neanche proprio provincia della provincia Favia non è provincia dai sì sì ma siete sbagliati dai no no provincia della provincia proprio a Milano quando dici che vieni da Favia sembra che gli stia dicendo che vieni da come si chiama quella città in Siberia Irkursk è uguale siamo slobati dai milanesi non te la sanno collocare sulla cartina geografica siamo proprio perse nelle nebbie e in mezzo alle rane le risaie allora stai abbiamo un po di commenti poi ci rispondi alla domanda che non so nemmeno se siamo stati in grado di porla la domanda sì nel senso che cacchio è una drag queen cioè che fa nella vita perché poi uno dice drag queen allora magari parli col cinquantenne di turno è che può può pensa una cosa invece parli magari con un altro ne pensa un'altra insomma cerchiamo di capire che cosa fa che cos'è chi è no che cos'è chi è la drag queen fondamentalmente quella è la mia curiosità la drag queen è un performer maschile di solito può anche essere transgender ma è meno frequente perlomeno in italia che si esibisce on farm nei locali può essere pub può essere discoteche può essere anche a teatro meno frequentemente derivano in qualche modo dalle da quei performer in panni femminili che facevano parti comiche a teatro o addirittura nell'epoca pre carlo secondo recitavano le parti femminili esempio a shakespeare tutte le opere di shakespeare le parti femminili furono date a uomini specializzati nella recitazione in panni femminili e drag deriva da questo da un acronimo che indicava i adesso non te lo so dire perché io con l'inglese proprio zero però erano gli attori specializzati nelle parti femminili giovani o vecchie ma perché non potevano recitare le donne tipo il teatro come si chiama il kabuki quello giapponese sì all'epoca le donne non potevano recitare gli uomini dovevano difatti era una delle mie curiosità un po capire la storia di questa cosa e un po lo immaginavo che poteva derivare insomma che era il proseguio di quel modo di fare teatro fondamentalmente esattamente una volta c'era il divieto della chiesa e non solo di recitare a teatro le l'ho messa molto bene scusate con l'italiano non sono molto pratica qui parliamo solo dialetto va bene dai insomma ci arrangiamo le donne non potevano recitare ma anche nell'antica grecia era così in effetti i greci misogini per ricchioni termine corretto era ricchioni ok perfetto ma è collegata questa cosa cioè è necessario che il drag queen sia omosessuale oppure ci sono eterosessuali che comunque sono dei performer professionisti che si vestono da donna e fanno che ne so la cantante o la ballerina o che ne so io sono tutte ballerine comunque sia anche in realtà non è necessariamente detto in quanto vabbè in italia per lo più sono gay o bisessuali a farlo ma ad esempio in america in gran bretagna che c'è più la cultura diciamo che ci sono anche molti uomini eterosessuali che hanno famiglia e tutto e si esibiscono performer è un lavoro come un altro ecco ok ma tu a livello artistico cos'è che fai schifo ma scusa la risposta a tutte le domande è schifo bellissima questa cosa delle performance cioè nel senso parliamo di performance canti balle ma effettivamente facci un esempio la tua serata tipo che ne so oppure faccio uno spettacolo però non ti abbiamo proprio pagato questa è questa la diciamo tranquillamente tu il tuo socio mi ha pagata diciamo ecco ecco non ti preoccupare non sono torna spero per mara che era per venire qui non per altri servizi poi non lo so eh non ho capito spero per mara che ti abbia pagato solamente per venire come ospite qualcuno è venuto senz'altro comunque io non c'ero non ho partecipato ma scusa hai detto la telecamera non dirlo ok sono ok quindi abbiamo capito che fondamentalmente non ho capito se riesce a sederti chiede sì no so che hai avuto dei problemi in mezzo così no no è passato è passato la pomatina che mi hai consigliato funziona importante bene bene quindi c'è fondamentalmente a parte schifo che è quello che ci hai detto prima cioè che fai canti io provo a indovinare stand up comedy cioè comunque anche la figura della drag queen mi sembra un po una parodia volendo a volte di alcune situazioni oppure mi sbaglio diciamo che facciamo di tutto un po poi ci sono le eccellenze di ognuno c'è chi più bravo a ballare chi più bravo a fare playback qualcuna sa anche cantare dal vivo c'è chi recita poesie esatto come recita poesie sì ma c'entra qualcosa col burlesque ma la shelly si fa di crack vabbè però recita poesie ma è una performance anche quella il crack il crack è una performance bello ma non è il microfono comunque diciamo che è un po come quelle veline cantiamo senza saperlo fare balliamo senza saperlo fare e diciamo ci vendiamo bene ok ok twitch ci bannerà tra 3 2 1 ma a noi non frega nulla perché ci hanno bannato finora se non ci hanno bannato finora va bene ma no giuro che ho messo le mutandine stavolta mara controlla un po subito a guardare non è vero attenzione perché non è vero allora intanto salutiamo michele che dice buonasera ragazzi buone feste scusate ritardo quando si giustificano e si scusano grande michele sottaceto ci chiede ci spiegheresti l'etimologia del tuo nome felly adams effettivamente da dove viene è un diminutivo prego esponga devo dare il mio nome completo davvero devo proprio ebbè a considerare qui non ci sono censure non ti devi preoccupare di nulla le bambini in onda spero di no spero di no spero di no che cosa ci fanno sul nostro canale dei bambini no comunque sta per fellazia adams ah 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 geniale ok spiega perché fellazia adams allora bisogna di spiegare però effettivamente se c'è da spiegare ok il fellazio era come chiamavano l'oratorio gli antichi romani no quando si gli oratori che parlavano sì sì proprio quello il fellazio esatto è quello il fellazio cosa avrà voluto dire subliminare sentino poteva andare fino in fondo ci bannavano tutti ok abbiamo appagato la curiosità di sottaceto e sono andati giù un po' dei commenti mi sono perso pagato per possessioni carnali chiede mette non so in che senso ma lì effettivamente una domanda ma chi non lo so ma infatti non mi sa che si riferiva al fatto che io l'avessi pagato ah ok forse ha fatto il discorso là no 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 amore è tutta beneficenza ma ci si campa bene con la professione oppure non so se vuoi rivelarci anche il tuo alter ego se in questo caso possiamo anche andare avanti senza in che senso il mio alter ego nel senso tu sei non sei felli tutto il giorno sei felli quando dovrai lavorare quando vai a insomma a prestare i tuoi servizi detta così però anche servizi artistici vabbè anche detta così non va bene però ci siamo capito fuori dal parcheggio del locale spesso sia dentro che fuori poi quali siano questi servizi dentro che fuori in che senso dal dal parcheggio del locale cioè va bene a me non interessa nel senso va benissimo però volevo capire come ti vedo interessato insomma ma vedi comunque in realtà no non è un secondo lavoro come la primo lavoro in pochi riescono a camparci ecco ah ecco ok perfetto perché ha degli alti costi insomma per stare a un minimo di livello abiti parrucche gioielli devono avere una certa importanza cioè vedi l'orecchino pesa tre etti e mezzo anche per truccarti quanto quanto ci metti a prepararti dipende se se sono di fretta un quarto d'ora esco pronta all'uso cioè wow il trucco dall'abito dallo spettacolo che deve mettere in scena se la cazzuola per caso si è rovinata con qualche modo insomma cos'è la cazzuola c'è la cazzuola è tipo la cucchiara da noi la cazzuola per il cemento la cazzuola per stuccare il cemento la cazzuola la intendevi in quel senso comunque amore c'ho tre dita di trucco in faccia sto a metterla con la spugnetta ci piego 30 anni beh io pensavo molto di più in realtà però vabbè presumo che insomma facendolo da da anni immagino comunque tu abbia preso una certa dimestichezza per prepararti quindi se mi dici un quarto d'ora ci credo un quarto d'ora è trucco buona la prima come viene viene la romanella da noi si dice la romanella è una cosa veloce fatta non benissimo ma che può passare da noi si dice romanella come viene come viene esatto esattamente io ho cinque occhi la prossima volta qui non sappiamo cosa vuol dire fellazio stavamo scherzando è probabile è probabile chiamato fratello un attimo mario mostraci entrambi le mani si eccole ragazzi ho entrambi le mani qui adesso la vado a rimettere qui questa poi qual è la performance più strana che hai dovuto fare chiede crash l'elefante in un balletto l'elefante in un balletto sì su un palco a 45 gradi perché con le luci scalda parecchio mi hanno fatto indossare una tuta in ciniglia da elefante su instagram anche la foto ok sarebbe sarei curioso di andarla a vedere adesso questa foto se ti vala la recupero se la mando ti va bene dove ho messo il cellulare io adesso ve la giriamo ah ok ce la girate voi perfetto ok e io per il momento con la cazzuola ho pensato male ma perché sono io sono malato dice mette è fatto bene e crash the grim ci chiede la più divertente cioè la la più strana che dovuto fare ce l'hai spiegata dove ti sei divertita di più stai censurando determinato devo trovare quella vietata non vietata ai minori più divertente ma è facile ok si dai diciamo che possiamo animarci nel 2012 al zurich fast che sono mi sono esibita davanti a un gruppo di tedeschi con haidi in italiano bellissimo mica ridiverti però davvero pagata devo dire che svizzera proprio guanti bianchi a un ottimo ricordo di quell'esperienza si anche di quei due clienti tanto ospitali ubriachi fragili ma erano funzionanti funzionali sì insomma c'è sottaceto che fa una domanda interessante dice felli non credi che invece di fare twitch per mario e stefano sarebbe più remunerativo aprire un only fans in cui fanno i gemelli incestuosi cioè si intende intende io e lui ma sai che l'ho pensato subito appena ho visto l'affetto dell'evento ma che sono due cloni effettivamente vedervi sforbiciare come gemelle lesbiche sono le fans potrebbe aver visto perché no allora abbiamo una volta abbiamo detto che se arriviamo a 50 mila padron e cinque no non 50 mila padron 50 mila euro 50 mila euro che non è 50 mila padron no quindi pure scemi se arriviamo a 50 mila euro ci lecchiamo la testa questo è il massimo che possiamo fare comunque non si schifta sta cosa battaglia di spade laser dice michele sia più o meno spade laser insomma e mette che ci vuole bene e mette che dice che siamo due cessi e quindi vabbè pazienza ce ne faremo ce ne siamo fatta una ragione già da un po ciao carol ciao grande carol effettivamente ma ce l'hai un canale only fans cioè nel senso sui social come ti muovi oppure sei tutta passaparola detta così è molto ambigua no qualsiasi cosa qualsiasi cosa esce dalla bocca di chiunque può essere ambigua questa sera quindi insomma prendiamola per quella che rispondi a quella che tu intuisci essere la domanda scegli tu il significato scegli tu il significato e rispondi diciamo che ho due o tre social parliamo di lavoro vero alla fine parliamo di quelli lavorativi intendi non di quelli diciamo a scopo tipo ma dove che vivono non lo so credo l'ha chiesto lui eh io ci sto immaginando social capito il gesto ma non conosco social cioè il senso istruiteci cioè struite a tinder ok quelle chat tinder no ecco vedi tinder no ma quale delle due intendi quelle legittime o quelle clandestine ma anche che sia legittime che clandestine nel senso che poi fate pure il guerra illegale lotta fa galli o fra cari che cazzo di domani non glielo ho detto io ma che che stronza poi poi per dirci due paroline e te scommetti nei combattimenti clandestini da galli chiamiamoli galli non so di cosa ti stia parlando in inglese parliamo di pollame esatto esatto comunque ma mette ma che problemi c'hai foto piedi su telegram mette mi provo amore dammi 100 euro modificami 100 euro ti mando le foto che vuoi ok vi mettiamo in contatto in privato fra te mette anche il primo piano dell'unghia incarnita se vuoi me la faccio venire apposta sì ci sta per 100 euro questo è altro senti ma io ho una curiosità perché io presumo che comunque il felli cioè tu sia un personaggio che si è costruito dopo non so un pensiero una voglia insomma come come nasce felli cioè quando è quando è stato il giorno che tu hai detto che io da oggi sono felli e faccio questo cioè perché lo fai vendetta vendetta attenzione mi aspettavo qualsiasi cosa tranne che adesso ci adesso approfondisci la questione guarda allora praticamente accadde che un nostro amico mio di un altro ci fece una volta uno sgarbo abbastanza gratuito e ce la siamo presa un pochettino tanto il sogno di questa persona era andare a fare la tra queen un celebre locale di milano che ahimè non esiste più e noi per vendetta abbiamo realizzato il suo sogno ok e quindi hai detto lo faccio e hai cominciato cioè comunque nel senso come è stato poi iniziare a fare questa cosa nel senso non so se ti piaceva già da prima forse oppure se è arrivato dopo dici qualcosa di più insomma non so è tutto molto confuso in quanto ero piuttosto ubriaca quella sera però ebbè sì la prima sera devi essere sconvolta per andare sul palco davanti a tutte quelle persone ebbè non tutte vestite aggiungerei per cui si c'è molto nudismo nei certi locali cioè e niente poi col tempo diciamo ci ho preso gusto una cosa tira e l'altra poi insomma diciamo ci sono anche dei benefici accessori che ogni tanto escono anche comodi ogni tanto ogni tanto cioè non ho più pagato un locale a milano per da 15 anni cioè ogni tanto ogni tanto vabbè da interessante quindi sei buttata là per vendetta ubriaca la prima volta poi però diciamo ci hai preso gusto ti è piaciuto e quindi diciamo esatto il tornaconto ci sta continuiamo poi guardala è magnifica è magnifica è stupenda oggi ho messo le nostre teste mie di stefano proprio nel punto giusto immagino quindi ma il cappellino l'hai messo per distinguerti no allora questo cappellino me l'hanno regalato l'altro giorno e siccome non li metto mai questi cappelli con la visiera l'ho indossato mi è piaciuto ma adesso che serve la visiera con questo sole adesso che con questo vabbè l'ha messo per distinguersi sì sì te la sta raccontando sì in pratica sì 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 l'ho fatto per distinguermi da lui perché lui mi fa schifo perché ogni tanto ci guardiamo e pensiamo oddio ma qui non c'era uno specchio facciamo le stesse mostre ma non mi muonano due eh io te lo dico no allora guarda ma era schifata da da sin da quando siamo più schifata di lui che della felli siamo sin da quando siamo piccoli anche quando io avevo i capelli lunghi e lui quelli corti ci hanno sempre scambiati per fratelli poi sai crescendo insieme un po le movenze le battute la caldizia è inevitabile che siamo praticamente identici eh cresce chiede una cosa ehm non so che cosa significa però vabbè forse provo a dire come la prendono questa tua seconda vita cioè le persone intorno a te penso se stai in una relazione come eventualmente il tuo partner vive questa cosa ragazzi io sono troppa per uno solo sono del popolo ok quindi ok interessante interpretazione del comunismo sì esatto sei comunista cosa vuol dire perché mi fate certe domande no vabbè era per eccezione di comunismo cioè quello che è mio è mio e quello che è suo ogni tanto è mio ok perfetto quello di Mara sì anche quello di Mara è il nostro senso di amicizia hai capito noi condividiamo tutto il fidanzato il fratello è quello più che altro lo condivido io però buttiamoci sul fratello più che altro senti siamo c'è una cosa che mi chiede altrove qui tuo fratello è insomma mio fratello ci sta guardando malissimo in questo momento va bene va bene Michele dice il sogno di Mario ma Mario non lo sa il sogno di Mario ma Mario non lo sa Mario lo sa lo sa benissimo ma non lo so se lo so se lo so se lo so non lo so se lo so d'altronde sai come si dice no ma non hai mai provato quindi come fai a dire che è una cosa che non fino adesso non ho mai avuto l'ispirazione ma mai dire mai ecco insomma non vabbè inoltre mi la foto del dell'argomento col due euro a fianco che qua anche poi mi accorgo se Bari eh ah l'ho capita adesso io non l'ho capita non la vedono spesso eh vuole la foto dell'argomento ah ok di quale argomento per vedere se Bari no se la con te non c'è prova perché Baro in che senso non si sta mai una cosa che uno non ha mai provato no certo eh non ho mai avuto né voglia né occasione ma mai dire mai eh si è resa partecipi ha detto ah ok dici va bene ok vediamo anche considerazione la faccenda eh non lo so se non lo so se non lo so spesiamo la questione questa live sta diventando un casino ma non nel senso di puttanaio no no a noi ci piace così ci piace eh porta eh no portami a questo punto ricordo eh ma io non ce l'ho da lontano leggite vabbè non mi interessa senti ma quando le un'altra cosa che mi incuriosisce in realtà è generalmente cosa ti domandano di più le persone quando le persone ovviamente che non sono all'interno del tuo ambiente ecco cioè come qual è la prima domanda che ti fanno generalmente quanto quanto ok e oltre questa sei attiva o passiva ok perfetto quindi comunque domande base e la terza è dove ricevi dove ricevi ma perché tu ricevi anche dipende ogni cosa che dico ma non posso dire un cazzo che qui è tutto un doppio senso bravo ho detto la parolina magica inoltre che poi valutiamo ho capito che sei interessato tanto guarda no a fine marzo le parti lì guarda e ne riparliamo te la porto giù guarda va bene va bene va bene non vediamo l'ora non indossare nulla eh non devi indossare nulla no no è indosso non ti preoccupare eh crescita e crisi a questo punto raccontaci come è stata la prima volta sul parco scienico e quando è stato in realtà ce l'ha detto prima ubriaca ubriaca ho pochi ricordi in che anno era il 2000 marzo 2007 il mio debuttanamento si dice così sul parco la domanda sul bidet già stata fatta no perché io c'ho io c'ho una fissa che chiedo sempre il il bidet se viene fatto da davanti o da dietro e quindi mi chiedono di chiederlo anche a te da che te lo fai da davanti gli entrambi cioè con entrambe le mani contemporaneamente no con due bidet dall'avanti prima una poi l'altro cioè come viene senza anche ma è venuto il dubbio io da che parte me lo faccio non me lo dico vado un attimo al bagno a provare non mi ricordo se lo fa dove dove tu lo vedi il rubinetto o no no da dietro ok hai visto fare no no non guardo la gente che fa il bidet io assolutamente mi professo c'è mara hai mai visto stefano fare il bidet perché non me lo hai mai visto no ti sei perso io solitamente l'intimità gioia te lo ciuli che intimità ma quale intimità usa d'ora in poi ti seguirò in bagno sarò lì seduto quando e che versi fa mentre dai avanti devo fare con noi cambiamo argomento intervista ma è un argomento sette po ma in italia come essere una drag queen beh non siamo al livello dei paesi anglosassoni quello è poco ma sicuro siamo ancora abbastanza dietro anche se c'è stato una certa evoluzione per fare un esempio una parrucca del genere in italia solo 15 anni fa era praticamente introvabile figuriamoci sti brillocchi poi con lo sviluppo di del commercio online ovviamente conciuto arrivare anche qua e adesso li trovi abitualmente anche qua certe cose ok quindi diciamo che negli anni un po siamo da questo punto di vista ci siamo un po più aperti sì prima eravamo più caserecci più rustici adesso siamo un po più professionalizzati rispetto a una volta ah ok dice anche tu a livello professionale insomma ti arrabbattavi un po come potevi ecco insomma non prodicherò foto non chiedetemele ah io ve l'ho mandata l'ha fatto dell'elefante ce l'hai mandata l'ho mandata a mario su telegram ok allora la possiamo far vedere qui in chat felly è su instagram quindi sono già sputtanata così sì infatti accetta i cookies bellissima aspetta perché per farlo vedere qui devo fare un attimo un casino ah la condivisione schermo sì sì ci penso io tu vai avanti dopo faccio il mio solido balletto no non devi fare il balletto devi fare il tuo lavoro allora allora l'only fans di stefano è lui che va a farsi il bidet perfetto quindi eccolo qua ok ok sublime ancora allora dicevo quindi stavo leggendo il commento di sottaceto felly pensi che negli ultimi anni c'è stato un miglioramento un po più lontano il commento che lo leggo troppo bene non ci leggo mario non ci leggo allora pensi che negli ultimi anni c'è stato un miglioramento nel riconoscimento del ruolo della track grazie ai media tipo programmi tv track race eccetera sei riuscita insomma ad aumentare secondo te insomma è questa cosa il cachet non è aumentato il cachet non è aumentato certo il ruolo della drag è diventato più popolare rispetto a prima più riconosciuto cioè prima era un continuo confonderci con travestiti transessuali testo calderone adesso comunque c'è un maggior riconoscimento anche da parte di gente meno del settore ma quindi nel senso che sono performance richieste anche non nel nell'ambiente lgbt allora quello neanche prima in realtà molti locali di provincia organizzavano già prima serate di trasformismo eccetera eccetera più che altro adesso c'è un po più riconoscimento del valore artistico rispetto prima ok ok quindi vabbè buono e c'è questi programmi qua io dico drag race non lo conosco quello che ha citato sottaceto quindi proprio in tv che fanno ste cose io avrei pensato netflix gioia lo trovi su netflix no c'è aspetta ci stava tipo pure un cartone che me l'avevi fatto vedere te mara me l'avevi no mi sembra no non era qualcun altro forse marco non mi ricordo c'era un cartone con queste drag che diventavano tipo mezza supereroi super drag super drag ok oddio magari la terza canna potrebbero strappare qualche risata ma vabbè non so se ti prendi un pochettino di acido fatto in casa che ne so quello della batteria mi torna in mente platinet quando ero bambino che platinet andava in tv e non ho mai piccolo non riuscivo mai a capire effettivamente se ero piccolo quindi magari mi veniva anche detto quindi io insomma quando ero bambino vedevo questa cosa e dicevo ah beh quella è una travestita o era una drag queen io non lo so era una drag anche lei sì tecnicamente sì quindi come un personaggio come platinetta come è possibile che in italia alla fine non abbiamo avuto abbastanza visibilità cioè è stato un personaggio positivo o negativo perché io me la ricordo e stava spessissimo è che era la sola punto non aveva molto spazio era invitata però l'arte in sé era intervistata chiacchierava ma non è che perché non ho memoria desti spettacoli che facesse stava no però io mi ricordo che stava come personaggio come personaggio ma l'arte in sé non gli hanno mai permesso di fare un granché in effetti non ha mai fatto uno spettacolo in tv credo no no io me la ricordo però mi ricordo sempre che insomma non facendo stava lì commentava chiacchierava cioè se era come uno che commenta una partita diceva cazzate ma non vuoi per quello che ne so io è una performance è una performance anche quella cioè non è non devi per forza cantare o recitare ora non mi ricordo vabbè ho capito però non mi ricordo se faceva battute o faceva rite io questo non mi ricordo sinceramente però comunque devi stare davanti a una telecamera devi intrattenere delle persone che stanno a casa vuoi o non vuoi una performance sì beh allora anche quelle della maurizia paradiso se proprio vogliamo erano non lo so performance se fai qualcosa se stai solo lì a chiacchierare c'era la semplice chiacchiera non so se rientra una definizione per essere anche un travestito potresti essere per per stare lì a fare l'opinionista in realtà non c'è una performance vera e propria ma nel vostro ambiente com'è vista platinet beh è una capostipite da per certi versi in italia è la prima drago famosa italiana e per un bel pezzo anche l'unica quindi non c'è anche oggi perché basti pensare che hanno fatto condurre il drag race italia di cui non mi dovete chiedere l'opinione mi rifiuto di rispondere senza il mio avvocato però l'ha fatta condurre una drag che ha una certa notorietà mi conosco sarà anche italiana ma in italia non se la conosceva nessuno che secondo me è uno dei ingredienti che secondo me mi fanno un po bocciare il drag race italia ecco ci dicono quando sarai invitata a esibirti in oratorio avremo vinto dice sottaceto potrei averlo già fatto ma grande potresti perché eri ubriaca anche in quel caso non ricordi bene o no no ricordo bene l'ho già fatto non è il mio paese ma ci sono comunque oratori di mentalità molto aperta li trovi adesso sì ci sono anche parroci particolarmente aperti comunque mi dissocio senti invece con il niente non ti preoccupare tu invece con il tuo come dire con l'altra persona che vive dentro di te cioè non saprei mai non saprei mai come espormi da questo punto di vista quel tuo alter ego ci sono delle affinità di urno il tè di urno quella sì che è una vacca funziona così vi odiate amate insomma beh non ho la doppia personalità adesso e schizofrenico ne conosciamo diversi che ce l'hanno ma noi no ok ma ci sono delle affinità cioè ci sono cose di te ovvio quindi io non sono io è una versione è un lato è un lato di me ma non è che sconfessa l'altro e punti di incontro sono gli stessi le idee sono le stesse ok perfetto una domanda che volevo fare per capire quanto è personaggio felli o quanto è realtà felli perché da come mi dici in realtà è molto più vera di quello che effettivamente potrebbe essere all'esterno analizzando ma stai psicanalizzando no no in realtà no perché io non so niente quindi voglio veramente capire come come effettivamente è vivere da da drag queen non è la tua domanda è questa è tutta una recita oppure è così anche nel diurno è così anche nel diurno è ok perfetto questo io volevo volevo capire esatto c'ha meno gioielli semplicemente anche meno capelli qualche capello in meno qualche capello in meno vabbè allora giochiamo nella stessa squadra sì ci sta denigrando si sta denigrando abbastanza 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 vabbè il il concetto della drag è un po ostentare portare all'eccesso anche il trucco e parrucco vestiti e cose no nel senso quindi magari sì cose il coso effettivamente ciao alice ciao salutami bianconiglio dice michele chissà da quale lato sono aperti questi preti forse riferendosi al fatto che hai fatto uno spettacolo per un oratorio veramente non hai colto no sì che ho colto ovviamente si tratta di apertura mentale apertura metaforica no per niente esatto un'apertura così cioè così anche l'autostrada del sole d'estate traforo del monte bianco anche fregius perché alle volte sono un po più tortuo sai perché lo spirito santo bisogna farlo entrare farlo uscire quindi ci deve essere ma è una vomitata di perdizione l'arcangelo caprile lì comunque quanti anni è che fai questo mestiere dal 2007 marzo 2007 2007 quindi sono una quindicina d'anni se non vado errato è tantissimo tempo quando è fallita le man brothers nel 2008 quindi l'hai fatto prima cioè non l'hai fatto per arrotondare lo facevi già da prima quindi non andiamo oltre questo discorso no no con le rotonde ho cominciato dopo il 2010 ah ok quindi comunque ci hai messo un po per ingranare diciamo prima solo su rettilinei ma guarda che comunque non sta capendo ma io sto io sto facendo una conversazione infatti adesso farò solamente da mod che tanto non sto capendo che mi voglio rifagli del male no no fammi del bene ti aprono come un grissino basta coi doppi sensi cazzo no no questo ce n'aveva uno solo un figlio di tenero ce n'aveva uno solo mario ha cinque anni non lo spottere esatto ma aspetta cinque anni mi porta così male sì non lo so c'hai qualcosa che vuoi dire ai nostri ascoltatori vuoi fare un momento sponsor si un momento sponsor si lascio il momento sponsor voglio consigliare a tutti il nuovo profumo pos di hugo boss sei il solito mortaccio di fame disoccupato a 40 anni con la madre sei un maschio omega che vorrebbe risalire l'alfabeto usa pos di hugo boss sa di pacchetto azionario e titoli al portatore e le donnine facili che rimorchi al bar sotto casa non dovranno più fingere con te abbiamo anche i momenti sponsor scusate ogni tanto va bene va bene poi ci prendiamo la percentuale dalla dalla ugo gioia ma tu torni in tutela da in natura non ti preoccupare solito accordo ma quando succedono queste cose io dove sono? dietro la telecamera gioia ma smettila fai la regia ma guarda questa cosa non la sapevo nemmeno io ho una carina in mezzo alle gambe cos'hai in mezzo alle gambe? un cane ah è un maschio? si è un maschio ah ecco perché sta grappando pico mette il mio momento spot donne è arrivato dal rotino vedi? dovremmo fare dei momenti spot esatto l'arrapino tipo promuovere la donazione del 6 per 1000 ai diritti dei lavoratori perché negare ai bambini un diritto inallenabile dell'uomo il diritto al lavoro facciamo come la Cina riconosciamo i diritti a tutti gli individui a lavorare indipendentemente dall'età o dalle mutilazioni è impegnata nel sociale si vede? è per i suoi parrucchi l'uomo giustamente hanno le manine fanno tutti i ricamini guarda che questo è una fatta di bambini i bambini che hanno le cuciture le fanno meglio è certo hanno le manine quindi hanno delle cose che gli adulti fanno fatica dopo 18 anni questa era la feglie per il sociale sì 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 mi dissocio ma pro al lavoro minorile sfruttamento minorile del lavoro mi sembra giusto tu sei d'accordo? sempre d'accordo sul lavoro minorile sul lavoro minorile lavoro minorile è la cosa migliore e quindi ci vanno i soldi dell'8000 a me che me li spendo a Tokyo nella soplend soplend no non ti daremo una lira dacci tu i tuoi soldi apri un'associazione e convincimi dacci 50.000 euro l'agenzia viaggi Bangkok Italia per turismo sessuale ma adesso è un sacco di soldi è pieno di pervertiti là fuori i vecchietti che devono non sanno come spendere la pensione esatto con la pensione l'area se ne parlo di bagaglie minorenni transessuali e poi etica c'è un'attività etica sì li aiuti a trapassare in Letizia probabilmente di Sifilide e anche lì ci ringrazia perché questi che continuano a campare fino ai 95 anni sono un corso per dissociare dopo questa quante volte ci dobbiamo dissociare per evitare che ci mancano non possiamo dissociare è stato bello farvi chiudere il canale era il mio intento prima dell'area penso che questa sarà la fine dei pupazzi da legare su Twitch presumo ma adesso lo pubblicheremo ovunque così sarà la fine dei pupazzi da legare punto anche perseguiti penalmente esatto denunciati proprio colleghi amici datori di lavoro sanno della tua vita se sì cioè nel senso colleghi amici datori di lavoro sanno della tua vita se sì come l'hanno presa bene lo sanno e no non hanno mai eccepito l'unica fra questioni fu mia madre che per qualche ragione era convinta che in realtà facessi proprio la battola beh anche perché vabbè tra ballare e battere insomma passo ballerine e prostitute gli hai detto mamma batto i piedi tu di quale fai parte? entrambe gioia no è dovuta venire mia cugina dalla Francia che peraltro è stata molto più bagaggia di me quella sera per poi capisse che il lavoro era serio e da lì ha cominciato a rompermi le tasche perché secondo lei non mi pagavano abbastanza quindi ha fatto da manager da non essere d'accordo a manager è un attimo praticamente è solo un attimo è solo un lavoro come un altro ho un cane curioso ciao cane anche tu vuoi fare la drag queen? eh sì è un fan della Felly è vero è vero e anche di Mara continua a provare a aggrapparsi alle sue gambe non capisco ma 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 cosa ha questo caglino? vabbè io penso vogliamo sei tu il patrono il patrono stasera quindi decidi tu quanto mica chi il cazzo no va bene va bene io penso che possiamo anche avviarci verso la la chiusura se c'è qualcosa che vuoi dire per concludere queste due chiacchiere questo è il momento giusto qualcosa che non hai detto qualcosa che ti viene in mente qualsiasi cosa e gli tocchi le tette intanto io tocco quello che va guardalo che invidioso vedi invidioso può fare invidioso? oh oh cavolo ce l'avevo uno screenshot della faccia di Mara quando ha tirato no ma tanto ho tantissime clip quindi ci sono anche le foto quelle porche di chi? di Mara e non sapevo neanche questo interessante scusami un attimo è quella foto lì? ma fatti cazzi tu dicevamo volevi dire qualcosa per chiudere concludere tutta la pelle o la cosa è? basta tinta pelle? sì basta è carino sai con la palla in bocca rossa a quattro zampe comunque il pannolone e poi ti dà quel tocco proprio ce l'ho con te Stefano me lo sto immaginando poi è questa la cosa pensa beh che ce l'ho qui davanti agli occhi vabbè comunque ce l'ha comunque ce l'ha metto la mattuta finale per concludere dice un consiglio per tutti non usate le siringhe raccolte da per terra perfetto io con questa frase chiudere se non me l'avesse detto lui io le collezionavo si usano per farci le rapine sì tutti tutti lo sanno tutti lo sanno a Milano le piscole potrebbero essere finte ma le siringhe da terra hanno tutti paura qui viviamo nel bene ma basta che ne prendi pure una nuova no? no si nota che è nuova è già basta basta graffiarla un po' sporcarla un po' magari le mance te le danno sicuro e beh quel poco mi assicuro ci arresteranno messaggio per il sociale messaggio per il sociale esatto va bene grazie Felli grazie Mara che ti ha accompagnato in questa chiacchiera fighissima in realtà hai vuoi se vuoi che qualcuno ti segua hai qualche link che ci vuoi dare non so ti facciamo un po' di sponsor oppure non te ne frega niente non ricordassi l'indirizzo no te li giriamo dopo possiamo girarvi l'indirizzo delle mie pagine Instagram e Facebook ok va bene così li mettiamo in descrizione dell'episodio quindi il profilo c69 volessi contattare o anche solo guardare foto curiosità o altro insomma poi metteremo metteremo i link grazie anche da Michele che dice grazie mille per questa avventura e quindi grazie a tutti i popazzi grazie a Felli concludiamo grazie a te Michele vieni a fare questa avventura vieni e buon anno buon anno a tutti ci vediamo buon anno buon anno in stile drag queen adesso buon anno adesso mi dà fuoco quello l'avrei fatto anch'io comunque se posso darle fuoco ma perché non gliel'hai data è per questo che ce l'ha con te no ma non volevo dargliela no lei la dà a lui non a me ma se vuoi te la do a te cioè nel senso cioè te la do io cominciando Natale è finito stiamo facendo pace Natale è finito stiamo facendo pazza perché hai notato un certo attrito tra te e Mario da mancata copula e quindi no ma è una cosa normale l'attrito ah è normale sì sì e anche la mancata copula sì decisamente non erudizioniamo a tutta la chat no no ne parliamo dopo ciao ragazzi grazie tanti auguri buon anno ciao ciao ciao